C'è già scritto, quindi c'è già stata la spoilerata Wii Sports Resort Novità Abbiamo un po' di scazzo oggi Perché purtroppo il Milan non continuano a fare stifo in campionato Appoggia il tremando Wii sulla superficie piana Non appoggiarlo sul pisello, grazie Il sonoro, scusa Cos'è sta roba? È un exogino È un midi Jack Skellington che avevo fatto Ma perché? Ma chi è? Ah ma è il tuo Ah quindi potrei esserci anch'io a un certo punto Se sono andato a paracadutarti sull'isola di Bucu Sei proprio Dero Sembra GTA Sembra Dero È GTA L'XXX lancia col paracadute Questa cosa stai facendo? Guarda devi muovere, muovilo Sto facendo il Pirla No, incredibile Dicevo che la cosa che mi riesce meglio è fare il Pirla Siamo anche il povero Benny Hill, buonanima Sconvolto da questa introduzione Troppa grafica Troppa grafica Però ci sono i paracadutti bianconeri Che figata Grande E già sono due punti in più sul voto della recessione È il nostro nuovo motto, troppa grafica Comunque vorremmo anche iniziare a parlare del gioco Visto che siamo già a 3 minuti di registrazione Allora, l'avevo mai provato Come l'abbiamo mai provato? Non è vero Filmato esplicativo No, no, sono sti coglioni Gioco su Quanta scelta 12 minigame No, sono tutti giochi profondissimi Ah, scusa, mi ha ragione 12 giochi Come no, c'è il bowling C'è anche l'altra volta Wow Dai, che cagato Facciamo allora Io farei... Partiamo con l'uovo Partiamo subito Con il ciclismo Sport in quota Ne ha parlato molto bene Me ne ha parlato molto bene Bu, che ne so Paragasso fa cagare Motosurfing fa cagare Cannottaggio fa cagare Di un numero No, cosa fai così? Non si scelgono così i giochi Torna indietro 100 No, ci facciamo bim bum bum Bim bum bum Per più tre sei Vai, sei Tre, quattro, cinque, sei Grande Questo metodo tecnologico E' l'agentino Bla 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 Guarda, per primo sei punti vinci Di me sono mancino Dai, dai, non fa niente Ma io sono mancino Non è vero Il mancino solo spippare Dai Allora Allora Un giocatore Dai Che tempo stringe Che colmo di Rio Che brutto Vai, il pugno qua su me Che bello Wow Ho i brividi Che noia Ma che sembra Non dico cosa sembra Impugna saldamente il telecom Lo sta impugnando saldamente Impugnano saldamente Impugnano saldamente Ma Wifi Zitta Wow Guarda 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 la camicia che ho Non dico cosa sembri Comunque il telecomando io Se lo schermo è la mia Vai, inizia Che gioco del cazzo Dai, stai giocando Dai Che motion plus Sai che Questo Questo Minigame È pubblicizzato In Giappone E Lo fa un nonnetto E non dico altro Ma che figlio Ma quel mafioso sulla destra Che sta guardando La vostra partita Chi è? Chi è sto mafioso? Si agita pure Avrà giocato le scommesse Si diciamo che come primo Come primo minigame È veramente esaltante Posso dire ciò che penso Cerca di perdere velocemente Così cambiamo minigame Nell'attesa che Ryo finisce la partita Stendiamo un velo pietoso Su tutto gioco Sulla camicia E i pantaloni Verdi Stendiamo un velo pietoso su tutto Rieccoci qui dopo questa esaltante partita Ryo cosa ne pensi? Bene grazie per il commento È stato molto esplitativo Ecco Passiamo al nuovo gioco Vai con il metodo empirico B B B 5 Che palle Cos'è 5? Palla a canestro Sono cresciuto due dita in più Per fare poi il dodicesimo Non fa niente Ciclismo e sport in quota Non rivedremo mai Guardi il pallacanestro Bello Dai Sei troppo Michael Jordan Vai vai Tiro libero No questo è già Cioè già a prescindere Mi faceva schifo quando già non ero riuscito a giocare Dai 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 È un gran gioco questo Non scegli Scegli me Scegli me Scegli me Ormai Uffa Questa faccia da Gesù Cristo Che palle Anzi Sembra un terrorista anni 70 Un brigatista Praticamente Rio Esperienza Guardi 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 Ti manca la pistola Che schifo Vai Tira Tira Dai C'è scritto Modo Che impedito Ma che schifo Eh che bello Vai Grande Sei troppo Oh Boh Ma mai Non è giocato Palacanesto No così Palacanesto Eeeh ne ha fatto uno Incredibile Eeeh ne ha fatti due Incredibile In base a cosa dovresti riuscire ad arrivare Eeeh in base al Come metodo empirico che usiamo noi Per sale Minchia Ad minchia Ad minchia Ad minchia Come dicevano i latini Ad minchia Vabbè io direi che anche sto gioco Possiamo Stendere un velo pietoso E' troppo complesso E' troppo proper Ma guardiamo proprio cosa è Guarda quanti poligoni che ci sono sullo schermo Dietro il personaggio della casa Guarda che grossa Le luci C'è il gamecube che sta piangendo Anche il nintendo 64 Se non fosse per la nebbia Anche il nintendo 64 Però è pieno di effetti volumente Lasciamo perdere anche questo Veramente Impietoso Chiudi Chiudi Che mal di pancia Rieccoci qua dopo la Bellissima prova della pallacanestro Rio cosa ne pensi di questo mini game sulla pallacanestro Eeeh Grazie Grazie Direi che questo commento vale più di mille parole Adesso passiamo a un nuovo gioco Ovviamente sfrutteremo il nostro Guarda quanti colori Quanta allegria Si Fantastico Usiamo il nostro metodo empirico La versione 2.0 Sì Aggiornata per permettere anche a ciclismo e a sport di quota Di poter partecipare Quindi passiamo subito alla scelta del gioco Si Bim Boom Bam 5 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 6 5 6 5 6 6 7 6 7 6 8 9 10 9 10 11 12 12 12 13 12 12 12 12 15 15 15 16 15 16 16 16 15 16 16 16 16 17 18 20 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 e niente più, come la definisci tu? una volta era la web race una volta era la web race una volta ma parliamo invece per esempio il mare che è stato tanto esaltato ti pare uguale a quello di Mario Sunshine? no, lo scherziamo a parte che questo è un mare di birra a parte che è un mare almeno si spera che questa cosa gialla sia birra non sia qualcos'altro è un mare poligonale dai neanche il traguardo è centrato il re degli scarsi in contromano 3 punti meno sulla patente 111 punti stendiamo un velo piettoso inquadrando il grande protagonista di questo gioco record basta basta va che schifo